ehi voi ma sta come da lui oh sta succedendo è bello che la mia moglie legge che lo cumpla felicità che lo cumpla felicità applauso pedro 30 sio 30 sio come si è spinta perché è tanto adesso tutte le donne che mamma ci accasso mi figliano non scumplas scumplas perdure